Mancava poco a secondo fiocco di casa, il nido d'amore di Loredana Lofredo, 36enne di Villa San Nicola, frazione di Cesinali, incinta a nonno mese, si era colorato di rosa, in attesa di Antonia. La culla stracolma di peluche è invece rimasta tristemente vuota. Antonia racconta ancora sotto shock, Loredana è morta mentre il giorno prima i sanitari della clinica Marzoni le avevano assicurato che l'ultimo monitoraggio aveva registrato segnali positivi e che la piccola di circa 3 chili, anzi godeva di buona salute. Dopo più di 36 settimane di controlli, finalmente il lieto evento sembrava vicino, Loredana era la mamma più felice del mondo perché grazie al supporto dei medici era riuscita a tamponare anche il flusso di acidi biliari di cui soffriva. Sabato Loredana è stata rimessa dalla clinica in attesa del parto. Il cuore della mia bambina, a livella la donna, improvvisamente ha smesso di battere. Il paradiso, tinto di rosa, si è trasformato in un inferno per la giovane mamma di Cessinali. Il caso ha colpito anche i dirigenti della clinica Marzoni che hanno avviato un'indagine interna per verificare se si sono registrate negligenzi tali da causare la morte della piccola Antonia. Solo successivamente, dando comunque fiducia inizialmente all'operato della clinica, i genitori della bambina presenteranno la denuncia alle autorità giudiziarie. Vogliamo la verità sul diaccesso di Antonia, avverte Loredana. Era tutta rossa questa stanza per ospitare la piccola Antonia, la bambina che tu ormai avevi con te perché avevi sentito anche il battito sicura di poterla abbracciare. Invece cosa è successo Loredana? Allora, io sono stata ricoverata dal 27 aprile fino al 5 giugno alla clinica Marzoni di Avellino perché essendo operata di coliciste, non avendo quest'organo, avevo gli acidi biliari alti. E loro mi hanno ricoverato perché dicevano che erano pericolosi per la bambina. Il 5 giugno mi hanno dimessa con degli acidi biliari quasi nella norma. Ogni paio di giorni andavo a monitorare la mia bambina, tutto è andato bene. Dal giovedì al sabato mattino non mi hanno fatto più predievi, però venivo monitorata tutti i giorni, tre volte al giorno. Il battito era regolare, la bambina stava bene. Sabato mattina passa lo stesso dottore che mi ha ricoverato e ha detto signora lei può andare a casa perché è tutto sotto controllo. Io sono tornata a casa, sabato pomeriggio, sabato sera io sentivo muovere la mia bambina. Domenica mattina anche l'ho sentita e dopo non l'ho più sentita. Sono corse in clinica, mi hanno fatto il battito ma il battito era fermo e non c'era più la mia bambina. E c'era lo stesso dottore che il giorno prima mi ha fatto le dimissioni. Lui mi voleva visitare e io gli dissi tu le mani addosso non mi dimetti, non mi voglio far visitare da voi. Io devo sapere qual è il motivo che la mia bambina è morta. Lei vuole giustizia? Vuole giustizia perché la male sanità non deve succedere queste cose. Hai denunciato Loretana adesso questo caso? Io adesso aspetto prima l'esito dell'autopsia che abbiamo fatto ieri mattina in clinica. Come abbiamo in ospedale, scusi.